Nell'attesa che si definiscano le competenze sulla casa del portuale di Messina, bene immobile e abbandonato dalle istituzioni ed occupato dai ragazzi del Teatro Pinelli, Palazzo Zanca chiede tutele per il gigantesco murales che è stato realizzato sulla facciata dell'edificio Darth Reiter di fama internazionale Blu, un esempio di street art che ha colorato un edificio dimenticato e che piace all'assessore alla cultura Sergio Todesco, tanto da chiedere formalmente alla soprintendenza ai beni culturali di Messina di salvaguardarlo per poterlo poi inserire in un percorso di valorizzazione che l'amministrazione comunale intende intraprendere. Palazzo Zanca dunque non considera affatto quanto realizzato sulle pareti della casa del portuale il simbolo di un atto vandalico, anzi ritiene che il lavoro di Blu possa essere un punto di partenza per dare un nuovo decoro ai luoghi. Le opere del Reiter sono in effetti presenti e valorizzate in Italia e non solo, con le loro grandi dimensioni e con le loro provocazioni figurano nei contesti urbani di Milano, di Londra, di Saragozza e poi ancora a Betlemme e a Rio de Janeiro e in molte altre città. Ogni murales trasmette messaggi pienamente inseriti nei contesti storici, culturali e sociali dei luoghi scelti. L'opera realizzata a Messina mostra uomini catturati come pesci e che tentano di fuggire da enormi reti lanciate da città galleggianti e pesci spada che trafiggono i simboli di una libertà solo apparente. Per l'assessore Todesco un'opera da salvaguardare. Il comune dunque si è già espresso, si attende la risposta della soprintendenza ai beni culturali.